Dopodomani, 20 giugno, ricorre la giornata mondiale del rifugiato, che la comunità internazionale dedica a chi è costretto a lasciare la propria terra per fuggire dai conflitti e dalle persecuzioni. Il numero di questi fratelli rifugiati sta crescendo. E in questi ultimi giorni, altre migliaia di persone sono state indotte a lasciare le loro casse per salvarsi. Milioni di famiglie, milioni! Rifugiati in tanti paesi e di ogni fede religiosa, vivono nelle loro storie di dammi e ferite che difficilmente potranno essere sanate. Facciamoci loro vicini, condividendo le loro paure e le loro incertezze per il futuro e alleviando concretamente le loro sofferenze. Il Signore sostenga le persone e le istituzioni che lavorano con generosità per assicurare ai rifugiati accoglienza e dignità e dare loro motivi di speranza. Grazie a tutti! Grazie a tutti!